Buongiorno a tutti, vi parlo del nuovo numero di Rizza Psicosomatica, la grande voglia di rinascere. Rinascere. Ma quante attività psichiche e corporee si svolgono dentro di noi a nostra insaputa? Praticamente quasi tutte. Perché la voglia di rinascere non l'accogliamo? Perché non ce ne accorgiamo? Perché noi abbiamo sempre l'idea su quello che vogliamo e su come dobbiamo essere, su cosa va bene e cosa non va bene. Ma rinascere è molto simile a quello che accade in natura. L'altro giorno passavo vicino ad una casa e mi chiedevo, ma quando arrivano i glicini? I glicini non arrivavano. Erano solo rami secchi. Improvvisamente il giorno dopo vedo i primi glicini. Il giorno dopo ancora era tutta la pianta completamente color azzurro-viola. Quindi vi sono delle azioni dentro di noi che arrivano all'improvviso, come il germoglio. Il ramo è secco e all'improvviso vedi il germoglio. Qualcosa che sembra nascere dal nulla. Qualcosa che un momento prima non c'era. Allora su questo numero di rizza io mi soffermo su dei casi di chi ha dato una svolta alla propria vita da un momento all'altro, da un punto all'altro. E quando tu ti soffermi su questo, è molto importante conoscere i codici. Uno pensa, più mi sforzo, più finalmente produrrò da dentro di me i risultati. Ti sbagli, non è così. La svolta alla rinascita avviene, e di questo parliamo in questo modo di rizza psicosomatica, quando tu incominci a cercare dentro di te un'estraneità. Quando cominci ad allontanarti dall'idea che ti sei fatto dei tuoi dolori. Quando cominci a smettere di cercare le cause. E quando scopri che dentro la tua interiorità ci sono degli attimi di gioia che non avevi visto. Anche nei dolori, in qualsiasi dolore ci sono degli attimi di gioia che non vediamo. Ne parlava Pascal. Stelle d'oro su uno spazio buio. Stelle d'argento su uno spazio buio. Ecco, rinascere vuol dire cambiare anche il movimento della mente. La nostra mente è sempre ferma sulle azioni che vorremmo fare, su quello che vorremmo ottenere. No, 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 no. Sapete cosa ho scoperto in tanti anni di questo lavoro? Che molte persone migliorano significativamente quando smettono di lamentarsi o di stare nel loro mondo e fanno un viaggio anche di un giorno, due giorni. In quel viaggio sembra che la mente cambi orientamento, cambi posizione. E da lì arrivano svolte imprevedibili, che fino a un giorno prima, come il glicine, non si vedevano. Ecco, la cosa importante è sapere che dentro di noi è sempre pronta la svolta. Non dobbiamo ostacolarla. Di questo parliamo su questo modellizzo psicosomatica. Come non ostacolare il progetto che la nostra psiche ha per noi e lasciare che accada ciò che deve accadere. Perché una pianta fa i fiori al suo momento e il suo frutto al suo momento. Buona lettura. Grazie. 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 Grazie.